Presso la scuola di medicina del Polichinico di Bari il convegno strategie di apprendimento e disturbi del neurosviluppo, il metodo del globalismo affettivo. Sentiamo Nicola Lucarelli. Il sottosegretario di Stato alla Salute, l'onorevole Marcello Gemmato, ha presenziato questa mattina alla proiezione del cortometraggio La Casa delle Letterine, che si è tenuta presso l'Aula Magna de Benedictis della Scuola di Medicina e Chirurgia del Polichinico di Bari. La fiction vede nei panni del professor Vito De Lillo, fondatore del metodo di avvio alla lettura scrittura globalismo affettivo, l'attore pugliese Francesco Tammacco, con una sceneggiatura scritta da Raffaele Tedeschi. La proiezione è stata realizzata in occasione dell'evento formativo dal titolo Strategie di apprendimento e disturbi del neurosviluppo, il metodo globalismo affettivo, nato dalla collaborazione ormai decennale tra l'Università degli Studi di Bari Aldomoro e il fondatore del metodo di avvio alla letto scrittura globalismo affettivo, il maestro De Lillo. L'evento è stato aperto a professionisti e specialisti dei diversi settori coinvolti nel processo di apprendimento di bambini con disturbi del neurosviluppo, nonché agli studenti universitari dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie. Oggi parliamo di un importante strumento che noi possiamo utilizzare per migliorare la vita di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, quindi preso in carico anche tramite mezzi multimediali per migliorare appunto il loro apprendimento. Importante che questo si faccia in una facoltà come quella di medicina, che poi è il centro, il fulcro dell'erogazione della sapienza in termini scientifico-medico ed il fatto che vi sia una partecipazione così importante dei studenti legata al fatto appunto che vi è un'assunzione di coscienza del fatto che la cura non passa soltanto tramite le medicine ma passa anche tramite buone pratiche e quelle che sviluppiamo oggi sono appunto buone pratiche. Allora, il globalismo affettivo è una metodologia che è praticamente stata creata nel tempo partendo prima dai bambini in situazioni di difficoltà di apprendimento, quindi svantaggiati e anche in situazioni di disabilità. Bambini che non riuscivano a leggere, a conoscere le lettere e allora in un primo momento, parlo degli anni 80, 90, ho iniziato con l'utilizzo della tecnologia, però poi mi sono reso conto che l'apprendimento era abbastanza strumentale, occorreva qualcosa di più, occorreva coinvolgere i bambini in tutto il loro essere persona, coinvolgendo anche la sfera affettiva ed emotiva.